Ecco il kitman! Attenzione a tutte le unità! Abbiamo preso l'obiettivo! Abbiamo preso l'obiettivo! Passo! Dattazione! L'obiettivo è andato! Passo! Ecco il kit medico! Ecco il pronto soccorso! Chiù la testa! Attenzione! L'obiettivo è stato neutralizzato! Passo! Ottimo lavoro! L'obiettivo è stato preso! Passo! Ecco qua! Questa è la luce in fondo al tunnel! Basta con le struttate! Questa è la luce! Stira il loro blocco! Sono intrappolato! Stirappolato! 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 Sono un medico, hai bisogno? Ecco il pronto soccorso Bel lavoro, con l'obiettivo preso, possiamo tornare alla base, passo Attenzione, tutti gli obiettivi sono al sicuro, passo Forza, prendilo, raccogli il kit medico Ecco qui il tuo kit medico Attenzione, tutti gli obiettivi sono al sicuro Attenzione, abbiamo perso l'obiettivo, passo Ecco il kit medico È arrivato il pronto soccorso Attenzione, l'obiettivo è stato preso, passo Abbiamo tutti gli obiettivi, ben fatto, ben fatto Qui il kit medico, amico Abbiamo neutralizzato l'obiettivo, passo Sono un medico, fammi vedere Fuoco di precisione nemico in zona, passo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Abbiamo preso l'obiettivo, passo Attenzione, abbiamo preso l'obiettivo, passo Accogli il kit medico Accogli il tuo kit medico Dannazione! Abbiamo perso l'obiettivo! Servo una cazzo di mano qua giù! Ecco il pronto soccorso. Attenzione! L'obiettivo è stato preso. Un evviva a noi, un baffanculo a loro! Passo! Forza, prendilo! Raccogli il kit medico! Su, medico! Attenzione! L'obiettivo è stato neutralizzato. Passo! Abbiamo tutti gli obiettivi! Ben fatto! Continuiamo così! Arribaro, granata! Ecco il kit medico. Grazie a tutti! Grazie! 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 Attenzione! Abbiamo perso l'obiettivo! Passo! Attenzione! L'obiettivo è stato preso! Passo! Attenzione! 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 Abbiamo perso l'obiettivo! Passo! Attenzione! Attenzione! Abbiamo preso l'obiettivo! E' arrivato il pronto soccorso! Dovete difendere questo obiettivo! Abbiamo preso l'obiettivo! Abbiamo preso l'obiettivo! Abbiamo preso l'obiettivo! È arrivato il pronto soccorso! Attenzione! L'obiettivo è stato preso! Passo! Abbiamo preso l'obiettivo! Abbiamo preso l'obiettivo! Abbiamo preso l'obiettivo! Passo! Il kit medico ai tuoi piedi! Agile! Abbiamo preso l'obiettivo! Attenzione! L'obiettivo è stato preso! Passo! Grazie a tutti. 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 Ecco, vedi medici! Datt'attenzione, l'obiettivo è andato. Fatto. UBER RIS, VAC! UBER RIS! Come andiamo! Come andiamo! Ehi, non morire adesso. Va bene, torno a combattere. Ho finito. Lancio granata! Vado subito a prendere il kit medico. Attenzione, abbiamo preso l'obiettivo. Passo. Lancio granata! Abbiamo neutralizzato l'obiettivo. Abbiamo neutralizzato l'obiettivo. Abbiamo preso l'obiettivo. Passo. Fuori! Va bene, non ti sbagliare il kit medico ai tuoi piedi. Ce l'abbiamo quasi fatta. Abbiamo tutti gli obiettivi. Un'obiettivo! Un'obiettivo! Ma il solito è avuto il kitore! Un'obiettivo! 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 bene soldati attenzione l'obiettivo è stato neutralizzato sono sicuro che cosa succede? 3-0 3-0 3-0 3-0 4-0 Coi faccio? Cosa? 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 Ehi, attenzione, coppa, coprini! Storzite, uosch! Cazzo, abbiamo perso l'obiettivo. Riprendiamolo. Passo. Ottimo lavoro. Obiettivo preso. Bene, non è il momento per le calzate. Ci siamo quasi. Gli obiettivi sono altri. Ecco il kit medico. Abbiamo neutralizzato l'obiettivo. Riprendiamo. L'obiettivo è stato neutralizzato. Passo. Attenzione, attenzione. Abbiamo preso l'obiettivo. Abbiamo preso l'obiettivo. Passo. Ecco il pronto soccorso. Forza, raccogli i piedi. Li faccio a pezzi! L'obiettivo è neutralizzato. Attenzione, basso. Abbiamo preso l'obiettivo. Abbiamo preso l'obiettivo. L'obiettivo è un bloaux bar prendi quel kit medico abbiamo neutralizzato l'obiettivo passo attenzione l'obiettivo è stato preso attenzione abbiamo preso tutti gli obiettivi qui il tuo kit medico amico prendi kit medico ottimo lavoro l'obiettivo è stato preso attenzione l'obiettivo attenzione l'obiettivo attenzione l'obiettivo attenzione l'obiettivo Grazie a tutti